Dai raga buongiorno e benvenuti nel canale Allora innanzitutto per prima cosa raga ignorate questa bolla che è coperta dagli occhiali per fortuna E ignorate anche le occhiaie perché non dormo da un pochino Però giuro da stanotte rinizio a dormire tanto Comunque oggi nuova puntata della serie da Zero Bodybuilder episodio 11 mi sembra E oggi è domenica raga, ieri avrei dovuto fare il richiamo di gambe Come sapete l'allenamento di gambe a corpo libero Però ci ho avuto un attimo da fare Quindi lo recuperiamo oggi e ve lo faccio vedere E poi passiamo a condizione fisica, prestazione fisica e peso Vi faccio vedere cosa faccio per richiamare le gambe Come sapete l'allenamento di gambe a corpo libero Come sapete l'allenamento di gambe a corpo libero Come sapete l'allenamento di gambe a corpo libero Ragazzi eccomi qua Devo fare gli 8 km raga Prima di correre banana Comunque mi avete chiesto perché vado a correre Nonostante sia in massa Semplicemente perché voglio mantenere il fiato Visto che faccio uno sport di combattimento in cui è importantissimo E poi perché voglio rimanere atletico Quindi voglio mettere la corsa in questo percorso Per monitorare anche il mio rimanere atletico Il mio saper correre Quindi mangio la banana e inizio gli 8 km Ragazzi sono 6 km Sto andando bene Sto a 32 minuti Non vede niente scusate Madonna comunque avevo sottovalutato l'allenamento di gambe Cioè polpacci raga che stanno chiedendo pietà Ragazzi ecco finalmente ho trovato un butotto si vede Ecco insomma l'ho detto Sto a 38 minuti 7 km All'ultimo si accelera Finito Sono stato sotto i 44 minuti Porco due raga Mamma mia Distruttivo fa gambe E poi la corsa Beh vi lascio le secondi qua Ci vediamo Dopo per la condizione fisica E il peso Ragazzi eccomi qua Finalmente Oggi È lunedì Vi devo far vedere Condizione fisica e peso Non ve l'ho fatta vede ieri Perché alla fine sono uscito E poi era sera tardi Ragazzi non si vedeva nulla Comunque Mi devo muovere Perché tra poco vi devo mettere la clip Sono appena tornato dal Brasilian Jiu Jitsu Che finalmente è riniziato Sono un po' stanco Comunque guardate qui cosa mi è arrivato Un pacco da Encore E quindi giovedì Aspettatevi il video Dove provo i prodotti di Encore Così almeno finalmente vi presento L'azienda Che sponsorizzo Comunque a parte tutto questo Allora il mio peso È di 68 Chili e 7 O e 6 Vabbè vi lascio la clip qua Quindi ottimo raga Perché dall'ultimo mese Ho messo un chilo Nonostante vacanze Vacanzette Cene fuori Tutte queste cose Per l'estate Quindi va bene Sono contento Da adesso si riparte Pulitissimi Super ligi Alla dieta E niente Vi faccio vedere La condizione fisica Ok Eccomi qua Per la condizione fisica Raga Ho cambiato la postazione Perché penso si veda meglio Allora comunque Così Sto rilassato Così Sto indurando gli addominali Doppio bicipite Ok Retto e spalle Tricibile Schiene bicipite Gambe colpacce e femorali Quadricipiti Colpaccio E femorali Perfetto raga Avete visto pure Le condizioni fisiche Adesso fatemi sapere Assolutamente Che ne pensate Non vi ho fatto vedere Le prestazioni fisiche Perché? Perché Adesso raga Mi allena tutti i giorni Quindi rimetterne C'è pure trazione Di hips e piegamenti Non c'ha senso Perché non sarebbero Veritieri Perché sono stanco Quindi dalla settimana prossima Farò vedere Semplicemente come Vado Come miglioro Nei miei allenamenti Comunque il video è finito Quindi se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Condividete Iscrivetevi E commentate Che magari a voi Non sembra super importante Però per me è importantissimo Perché YouTube Mi fa vedere a più gente E quindi niente Il video è finito Ci vediamo alla prossima Dai Ah comunque Grazie mille per i mille iscritti Vi voglio tanto bene Dai Vi voglio tanto bene